Buonasera a tutti, ringrazio il dottor Adam e soprattutto ringrazio a tutti i partecipanti perché con una giornata così calda partecipare a un tavolo rotondo perché si parla di politiche giovanili significa che qualcuno come noi, come noi giovani ci crediamo ancora che qualcosa possa cambiare in questo territorio così difficile come la regione Campania. Io sono a precisare, ringrazio soprattutto i forum locali che sono qui presenti come il forum provinciale di Salerno servito dal Presidente Dottor Busiello il quale si impegna tantissimo sulla provincia di Salerno, ho visto anche il Presidente della provincia di Valentino, Nicotera e tante altre persone che sono impegnate nelle politiche giovanili. Per quanto riguarda la garanzia giovani penso che già sia stata detto molte cose, quello che ha messo in campo il forum regionale della gioventù per quanto riguarda la garanzia giovane è informare e comunicare ai giovani della regione Campania che esiste una misura, si è attuata una misura in regione Campania che ancora oggi non è ben conosciuta perché anche se i numeri sono elevati di partecipazione alla domanda, oggi direi che è proprio il primo giorno che si parla di quello che consiste la garanzia giovane e di quello che vuole mettere in campo sia la regione Campania ma soprattutto il governo nazionale. Noi come forum regionale della gioventù stiamo cercando di trasmettere con la comunicazione, di immogliare i giovani campani che vivono il disagio della disoccupazione e soprattutto quello di non guardare un futuro in uno sbocco occupazionale, di poter farli partecipare alla domanda di garanzia giovane. Per quanto riguarda le altre cose che il forum regionale della Campania ha messo in piedi, io ricordo che anche essendo che sono stato eletto da poco, da sei mesi abbiamo messo la prima manovra che ha fatto il mio ufficio di presidenza, è quello di fare un protocollo di intesa con l'Università Federico II per sei borse di studio in Green Biotech con la facoltà di scienze biologiche, il quale ne hanno beneficiato sei giovani della regione Campania con disagiate condizioni economiche ma soprattutto meritevoli perché secondo la mia formamentis e la formamentis dell'ufficio di presidenza che è seguito da me, noi dobbiamo dare un input che non è possibilità di soltanto determinate persone di potersi formare, ma la formazione professionale deve essere un bene comune, anche se è una cosa, un processo molto difficile da mettere in campo, ma noi abbiamo fatto il nostro ruolo, cioè quello di attivare, di stimolare l'istituzione regione Campania a mettere in piedi qualcosa di concreto e di serio e proprio dopo due mesi il Presidente Caldoro insieme all'assessore Trombetti è partito con fondi europei, hanno stanziato 50 milioni di Euro stanziati per ricercatori, dottorati, borse di studio, master e soprattutto nella formazione, quindi noi come forum e come forum comunali nella propria amministrazione è quello di accogliere le esigenze dei territori, dei giovani dei territori e portarli verso le istituzioni, nel nostro piccolo abbiamo messo in piedi questa cosa, l'istituzione regione Campania ha accolto la nostra richiesta e subito ha stanziato dopo due mesi 50 milioni di Euro, che penso che siano ancora aperti questi bandi di ricerca che stanno attuando in regioni Campania. Per quanto riguarda la legge regionale, noi abbiamo intenzione di dare nuove linee guida alle leggi regionali sulle politiche regionali in Campania, perché essendo una legge un po' pecchiotta va rimodernata, guarda deve essere un po' diversa da quello che sancisce. Quindi noi ad ottobre, a metà i generali che saranno tre giorni che si terranno a Napoli, invito già da adesso, lancio l'invito a tutti i forum presenti a diffondere questa notizia, che avranno alloggio, saranno ospiti della regione Campania, certamente non tutti, ma la maggior parte delle delegazioni di molti forum comunali, soprattutto quelli che vengono lontani da Napoli, che possono restare a Napoli per parlare e discutere della legge regionale, di come vedono loro, noi giovani, come vediamo la linea guida della legge regionale sulle politiche giovanili. Da queste varie start-up che si faranno in questi tre giorni, uscirà fuori una linea guida che io il giorno dopo presenterò, anzi il minuto dopo, presenterò alla Commissione politica giovanile del Consiglio regionale e lì vedremo come fare per poter farla approvare più in Commissione e poi, come dico sempre e come sono abituato a dire, a volte i sogni diventano realtà. Per noi è un sogno, mettiamola in piedi, scriviamola, la presentiamo. Se la regione Campania, l'istituzione regione Campania, come ha accolto tante richieste del forum regionale, come accoglie tante cose del faticoso lavoro anche che fa l'osservatorio, che fanno i dirigenti delle politiche giovanili della regione Campania, sicuramente accoglieranno anche la nostra linea guida di come vediamo la legge e come vediamo il mondo dei giovani in regione Campania. Perché guardate, oggi la politica non guarda più con l'esigenza del territorio, perché essendo che sui territori ci sono delle esigenze di giovani, noi dobbiamo spronarli e io invito sempre a tutte le persone che mi conoscono, a tutti che mi possono contattare tramite Facebook, tramite numero di telefono, sempre alla mia massima disponibilità di invogliarmi anche a me a spronarmi a fare richieste e di chiedere alla regione Campania, all'istituzione che ci sono delle vere esigenze sui territori e i territori vanno seguiti, perché se la loro capacità, la capacità dei politici, la capacità di coloro che sono al vertice di un'istituzione regionale riescono a capire che la politica parte dal basso per arrivare in alto, significa che hanno riuscito a capire che qualcosa può cambiare. Ma fin quando non riescono a capire che dal basso, cioè da noi giovani dal territorio, possono arrivare in esigenze, richieste serie e concrete e non attuano, significa che qualcosa non cambia e resteremo ancora insabbiati in questo momento tragico che sta vivendo l'istituzione italiana. Io ringrazio tutti, ringrazio tutti per la partecipazione, ringrazio soprattutto all'osservatorio, alle università che hanno dato modo oggi di essere qui. Spero di essere utile nei prossimi giorni, nelle prossime incontri, di poter portare qualche richiesta seria e concreta di noi giovani verso l'istituzione. Grazie a tutti.